Vicenda abbastanza particolare quella che si è verificata di recente per quanto riguarda un corriere Amazon. Infatti si vede uscire fuori da un furgone di questo corriere Amazon una amabile ragazza seminuda che esce dal retro del furgone con un abito nero di tipo succinto, una muscolatura bella vista, bella generosa e le amabili gambe scoperte. Il video è diventato virale sul web, tanto che è costato caro al dipendente di Amazon, infatti l'azienda di Jeff Bezos ha deciso di andare a licenziare in tronco l'autista del furgone reo di avere tenuto dentro di sé, o meglio proprio nel suo furgone, questa ragazza, probabilmente per avere con lei degli atti intimi e degli atti sessuali che ovviamente non sono passati di certo di osservare. Insomma, la bravata, oltre alla bravata, la biffa, no? Essere biffata in questo modo, questa ragazza, insomma, anche abbastanza sexy, intrigante che si vede uscire fuori da questo furgone e da parte retrostante. Ovviamente il video non è pubblicato su YouTube, non è presente, è stato pubblicato su TikTok, in social cinese per eccellenza. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, non è narratore italiano, il teatro di questa vicenda è la Florida, Stati Uniti d'America. Va bene? Anche se i fatti sono del luglio 2019, sono stati diffusi solo di recente. Ciao a tutti, italiano, narratore italiano.